seconda parte e ridi come una chicca cazzo come me praticamente sentiro ok 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 che prestazioni ho che roba ma se questo fa guarda se li ho scartozzate che si cerca Andrea è uguale la stessa roba non so se si arriva a vedere non so se si arriva a vedere ma che barra che farò ahahahahahah mi fa lessor il TV un cazzo sto a trovare con il padre riempire riempire che calabria e' braga ma va non ci si prego a fare se non arrivo a darmi niente ah mi ha messo su youtube questa roba da povera madonna trovi trasformata guarda che ero guardi pro sud ma lì ma lì ma lì per 3 2 2 1 1 ok 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 3 minuti per me ok 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 tutti nebb ok anche ok e ho ok 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 rd il cappato sto qua ok la e e e ma 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 e e il e 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 a e e e e